attenzione tutto in diretta mancava l'ultimo componente della nds stiamo facendo a quattro minuti dall'apertura dei cancelli tutto indietro tutto il live tutto il live ecco questo ed altro potrete vedere qua alla andrea camper tutto il live siamo in diretta ecco questa è una bella scena però basta non ve la faccio più vedere mattia buongiorno tutto il live come state da posto bene tu avete dormito qui eccoci qua in live allora facciamo un attimo un giro faccio vedere dall'officina giorno tutto in live anche qua ci sono preparativi speriamo che non fanno torniamo di qua qui è la zona membra pol diamo l'esposizione di prodotti membro con la parete membro visto e questo invece l'esposizione dei camper zona espositiva ecco l'apertura delle porte attenzione tutto il live anche la chiusura delle porte ci siamo tutto il live ecco qua ci sarà il taglio del nastro tra poco ma andiamo un attimo fuori oggi purtroppo è una giornata un po più viginosa la cialumi questa è l'entrata dell'officina e questa è l'entrata purtroppo l'effetto led non è il massimo nuovo nuova insegna o grande prof grande prof siamo emozionati quasi adesso tra poco ci sarà il taglio del nastro tutto in diretta io rientro perché piove purtroppo lui sarà il guidatore del 4x4 se volete fare un giro in 4x4 esatto venite qua con la gopro che stai attrezzando infatti speriamo dai oh buongiorno 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 ci sta alla fine e questa è la parete nds hanno tanto da imparare da me questa schiena eh beh grande carlo nds dometic con i nuovi prodotti 2023 2024 tempra e tutto il sistema embass e questi invece sunlight nuovi nuovi di pacca 2024 motorhome semi integrale e due e due van eccolo il nastro abbiamo trovato il nastro si trova a provincia di asti scurso lengo oggi c'è l'inaugurazione domani ci sarà porte aperte anche anche oggi oggi e domani porte aperte quindi anche domani potete venire c'è il sindaco è arrivato il sindaco eccolo qua il sindaco discurso lengo guarda toni sei in live ciao toni buongiorno tutto bene il sindaco c'è ci siamo tutto in live buongiorno grande emozione qua all'andrea camper siamo in diretta guarda che squadra siamo una squadra fortissimi non so se andare fuori o dentro ma stiamo dentro dopo nel corso della giornata ne faremo altre di live tra youtube tiktok e instagram quindi seguite tutti i social quattro volte una capanna e andrea camper il locale è bellissimo sì dopo farò un giro ci siamo eh attenzione ci sono i flash fotografi ci siete sì mi sembra di sì mi sembra che i fotografi ci siano quindi siamo pronti grazie a tutti ciao vi saluto ringrazio andrea grazie a tutti 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 che ce ne è creduto e questi piccoli territori e questo cuore più usante avrete in modo di farvi vivere e farvi conoscere soprattutto alle persone che oggi faranno parte di questa piccola festa grazie ancora e tanti auguri e vai stanno arrivando perché in emergenza abbiamo dovuto un po' cambiare i piani perché avevamo predisposto la manifestazione in piazza per la distribuzione di fagioli anzi se aspettate porteremo giù i fagioli a mezzogiorno e vai grande fagiolata perché abbiamo ben 15 carità benissimo causa mal tempo è grande a posto abbiamo fatto lo taglio del nastro facciamo tutto in live come stai? ho dato un messaggio ma sapevo che è ricasinato ho detto guarda che ci sono non è la ricasinata sono presentato con il camper hai visto Luca? tutto in live al maxi schermo con i video sunlight tutto in live tutto in live questo è il negozio adesso facciamo un giro mamma mia quanta gente quanta gente qui è la parete NDS con tutti i nuovi prodotti bellissimi tutto black grafica black e questi sono invece i sunlight oh buongiorno orca oh questo invece è lo shop ciao oh male qui ci sono Mattia e Eli visto che bel negozio? Flore Diego ciao amici guardate che bel negozio fornitissimo qua poi qua ci sono gli uffici con una bella stufetta per un po' di calduccio oh lasciare aperto lasciamo aperto facciamo un giro per il negozio questi sono i porta poti che ho messo anche io su lumi dopo facciamo un giro anche su lumi qui tutti i prodotti questo lo conosco questo lo conosco un sacco di roba un sacco di roba venite a vederci sono degli sconti incredibili e poi dopo vabbè qua c'è i vari prodotti chimici c'è di tutto c'è veramente di tutto e la nuova felpa adesso vi faccio vedere che ce l'ho anche io ce l'ho anche io la felpa come sto? grande e qui abbiamo un personaggio famoso il grande Filippo di Polly Lillo andatelo a seguire su Instagram Polly Lillo e lì c'è la Roby ecco qua tutto il live tutto il live allora io vi saluto per adesso ci vediamo nella prossima live non so quando quindi attivate la campanellina iscrivetevi mi metto un attimo da pazzo facciamo un giro qua in questo bellissimo motorhome c'è nessuno? no non c'è nessuno mi metto un attimo oh dentro questo motorhome qua che potete venire a vedere aspetta che ci sistemiamo un attimo almeno qua c'è un po' di calma eccoci qua oh allora vi aspetto io mi sono fatto pure la barba era un pezzo che non ce l'avevo così corta da tantissimo tempo vi aspetto qua potete vedere tutto la nuova sede dell'Andrea Camp quindi negozio ufficina uffici tutto c'è l'UMI qua fuori che vi aspetta se volete vedere l'UMI dal vivo a Scursolengo in provincia di Asti oggi e domani poi basta no poi basta nel senso oggi e domani ci sono porte aperte e quindi anche molti sconti su tanti prodotti niente vi aspetto alla prossima live come ho detto prima attivate la campanellina perché non so che ora la farò e seguitemi qua su YouTube su Instagram e anche su TikTok perché farò anche qualche live su TikTok quindi qua dal motorhome dalla Sunlight è tutto ci vediamo presto e spero di vedervi qua dal vivo alla Andrea Camper ciao fine grazie a tutti